Ciao a tutti torretti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qui per farvi vedere questo video che è uscito oggi stesso riguardante le news di Farm Simulator 2017 In pratica vi presenta principalmente i mezzi Allora, abbassiamo l'audio Ok, direi di partire Va via il mouse Vabbè, come vedete c'è il Case Optum 300 Che me l'avete già fatto notare in un video che si intravedeva Con l'Ankem Qui vabbè abbiamo il Nyolan, quello per fertilizzare Voglio dire che Ecco, mi avete detto se c'era il Pantera, no, ci sarà questo e basta, penso Qui la Massi Ferguson che penso che sarà una delle trebbie Non dico più bella, però è molto bella come trebbia Fend 939 Qui non dice più serie 900 perché questo qui è proprio 939 Ok, Valtra Il serie T mi pare con il Lely Poi ci si intravedono, ecco qui un nuovo mezzo Olmer, Terra Felis, due Echo Veramente un bestione In pratica abbiamo visto la ropa, c'era come mod nel 13 e alla fine hanno fatto qualcosa di buono Qui va bella crone, intanto l'abbiamo già visti Il Deus 9340 TTV Guardate qua con la botte Venus 3 assi, devo dire che è una bella botte Abbastanza grande direi Vabbè, Challenger Ok, non mi ricordo più se c'era il case ma mi sa di no Ok, finito qui Finito qui ma devo dire che è tanta roba Vabbè, come sempre uscirà il 25 ottobre un PC and console che uscirà sempre lo stesso giorno Ora qui interrompiamo, fatemi vedere un attimo che ho un dubbio Ehm No, vabbè, qui sono i video Ecco Ieri è riuscito questo episodio 19 Episodio, diciamo tra virgolette episodio E volevo farvi vedere un attimo una cosa Ecco la Jens Aspettate, prima voglio vedere se è il case C'è il Quad Track Sì, c'è ancora Quad Track Quindi quest'anno avremo Quelli snodati Il Quad Track Il T9 E il Challenger Del cavolo il Challenger Il Challenge Lo troviamo Vabbè, c'è il Challenger comunque Poi Grimme Ho visto che c'è una raccogli Questa qui è? Raccogli patate? No Non so se ci sono tutte e due La La Tektron E l'altra Che non mi ricordo più cosa sono Comunque raccogli patate E l'altra Comunque so che c'è la Olmer Vediamo un po' se c'è qua Con l'H Olmer, eccola qua Dovrebbero aver messo già Cavoli, ce la fai? Ok, la Olmer hanno appunto messo questa qui Che in pratica è per le barbabietole Non so se della Grimme metteranno solo raccogli patate Comunque dalla Olmer appunto abbiamo visto quel fantastico mezzo E cavoli, non ho fatto partire il timer Ok, vabbè Non serve a nulla ora E qui dovrebbe essere ancora aggiornato Appunto, ero sulla Gens Come vedete E abbiamo questa qui Intanto io mi sono informato un attimo Cavoli, non funziona Ok Sono andato sul loro sito E ho visto un paio di mezzi della Gens Allora Vabbè, queste cippatrici Ecco qua Questa cosa qui non sarebbe male Penso che io metteranno Io credo che metteranno Non questa qua piccola Bensì Perché piccola ce n'è già un'altra Bensì una cosa da camion O questa qua Che sarebbe una figata Assurda Oppure no Oppure magari questa Allora Una è questa qua Due Tre o quattro assi Non so Vedrà un po' No, questo qui non credo Oppure No, neanche questa De cavoli Eccola qua Questa qua Quella sul camion Che anche questa non è affatto male Ho orrato qua Ma non dice nulla di preciso Ecco Io penso O uno di questi qua O uno di questi che mettono È una mia ipotesi Poi magari potrebbero mettere anche questo Come non so Però era soltanto un'ipotesi che mi ero fatto Vai qui il video Che altro volevo dirvi Vabbè ci sarebbe il case opt Un 300 Penso che va di dei 270 300 Penso Qui appunto Non c'è più il case Quello 160 No Il 160 o il 200 Boh Il Puma Intendo C'è soltanto Questo qua Il CVX Però è più potente Di quello che dicevo E nulla Ecco oggi Volevo far vedere Oggi Andiamo sui video Uscirà un video Ovvero Eccolo qua L'avrete già visto L'episodio 45 Che uscirà Alle 13 No scusate Alle 15 Mentre John Machine L'ho impostato per oggi Però Boh Devo vedere Devo vedere Perché non so Se farvelo vedere oggi Oppure più avanti Magari l'avete già visto Comunque vedrò un po' io Perché domani Vorrei portarvelo domani Vorrei portarvelo domani Ma per domani Mi sono imposto io Di portarvi Un episodio della serie Made in Italy E Ride 2 Dato che è un po' di tempo Per registrare Riesco a portarveli E nulla Comunque Sono veramente molto curioso Di vedere il gioco Perché ormai manca poco Manca veramente pochissimo Come ho già detto L'ho già ordinato E Appunto All'uscita Oltre a questo Che alla fine Vabbè è cambiato Però secondo me Lo scalino Più grande Vabbè A parte all'inizio Che non ci ho mai giocato Però Dal 13 al 15 Secondo me C'è stato un grandissimo Miglioramento Poi qui si va di cose Piccolezze Che però Lo rendono sempre bello Però Sembrerebbero anche Quasi delle mod Cioè Sembrerebbe Un'uscita Tipo di un pack Di cose nuovissime L'arrivo di questo Nuovo gioco Perché praticamente Le funzioni Sono quasi quelle L'hanno aggiunto Qualche funzioni in più Che merita molto E Tra l'altro Uscita un devblog Riguardante la radio Ma Non andremo a vederlo Ve lo spiegherò Magari appena Lo utilizzerò E poi Sono curioso Di vedere Anche cosa ci sarà Sulla Aspettate Su questo Cipatrice qua Sono proprio curioso Di vedere Cosa ci sarà Perché poi Una cipatrice così Non vorrei Appunto dire Una cavolata Però ci sono Le cipatrici Quelle manuali In pratica Si mettono Dentro i tronchi Mano a mano Non credo Sia una di queste E anche qui Magari ci sare Potrebbe essere Una cipatrice Ecco Sapete cosa sarebbe Magari possibile E' un'emidea Vi svelovo Intanto No vabbè Sono passati un paio di minuti Perché non era partito Il cronometro Comunque Potrebbero fare Un man Aspettate Fatemi vedere Qual man Del cavoli è C'è almeno Non so No non è ancora uscito qua Non è ancora uscito qua Sullo shop Comunque potrebbero fare Un man Scarabile In cui potete installare Una cipatrice Di questa marca Oppure una cipatrice Della genza Però Non credo Vabbè Poi ci saranno Ecco Le nuove 25 mod Mi pare che vi avevo detto Negli scorsi video Che verranno rilasciate Subito all'uscita del gioco E potranno essere utilizzate Anche su console E Vabbè Anche su pc Ovviamente E nulla ragazzi Appunto Noi ci vediamo Dipende quando vedrete Questo video Però penso ci vedremo domani Perché uscirà un po' tardi Magari insieme a quello Di Jam Machine Ecco Lo programmerò Per le 17 E nulla Non ci vediamo domani Con la serie Made in Italy E poi dopo A seguire domani Ci sarà Un episodio Un video Riguardante Ride 2 Penso Vi dico Un piccolo anticipazione Penso che sarà Un video In cui andremo A personalizzare I veicoli Perché Portarvi gare Vabbè Ogni tanto ci potrebbe stare Però Volevo fare una cosa Un po' diversa Perché tutti fanno gare Io andrò a personalizzare I veicoli Insieme a voi Perché appunto Mi sono fatto un po' di crediti Ci sta come cosa dai Perché Voglio godermelo un po' Anche per conto mio Perché i giochi di guida Sono belli Mi piacerebbe portarveli Ma come vedete MotoGP Ovvero Valentino Rossi The Game Non è che vi prende moltissimo Allora piuttosto Ride Me lo porto Me lo tengo per me Magari faccio qualche video così Oppure Ecco i video di motori Li potrei portare Sul secondo canale Che sarebbe Toretto Creed Tra l'altro Non ho ancora portato video per ora Però siamo già 8 iscritti Tra l'altro Oh cavoli E nulla Noi ci vediamo domani Con Serie Made in Italy Spero tanto che questo video Vi sia piaciuto E vi ricordo come sempre Di lasciare un bel like Commentare Condividere il video Iscrivervi al canale Se l'ho ancora fatto Ah tra l'altro Nell'episodio Che avete visto oggi Ci sarà Vi invito a vederlo Che appunto C'è un sondaggio Spero di averlo messo Perché Mi pare di averlo messo Che riguarda Ecco sull'uscita del nuovo farming Se iniziare subito Con Serie Test Mode Oppure con entrambi Poi dopo Vedrò un po' anche io Come riesco a gestirmi Però Più o meno Saranno queste cose qua Che vi porterò E nulla Non ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti Oretti E al prossimo video Dal 13 al 15 Secondo me C'è stato un grandissimo miglioramento Poi qui Si va di cose piccolezze Che però Lo rendono sempre bello Però Sembrerebbero anche quasi Delle mod C'è Un Sembrerebbe Un'uscita Tipo di un pack Di cose nuovissime L'arrivo di questo nuovo gioco Perché praticamente Le funzioni sono quasi quelle Hanno aggiunto qualche funzione in più Che merita molto E tra l'altro Uscita un devblog Riguardante la radio Ma Non andremo a vedere Ve lo spiegherò Magari appena Lo utilizzerò E poi Sono curioso di vedere Anche cosa ci sarà Sulla Aspettate Su questo Cipatrice qua Sono proprio curioso di vedere Cosa ci sarà Perché poi Una cipatrice così Non vorrei appunto dire Una cavolata Però ci sono le cipatrici Quelle manuali In pratica si mettono dentro i tronchi Mano a mano Non credo sia una di queste E anche qui Magari ci sarebbe Potrebbe essere Una cipatrice Ecco Sapete cosa sarebbe Magari possibile E' una mia idea Vi svelovo a voi Intanto No vabbè Sono passati un paio di minuti Perché non era partito Il cronometro Comunque Potrebbero fare Un man Aspettate Fatemi vedere Qual man De cavoli è C'è almeno Non so No non è ancora uscito qua Non è ancora Bella botte Abbastanza grande Direi Vabbè Challenger Ok Non mi ricordo più Se c'era il case Ma mi sa di no Ok Finito qui Finito qui Ma devo dire che è tanta roba Vabbè Come sempre Uscirà il 25 ottobre Un pc E un console Che uscirà sempre Lo stesso giorno Ora qui Interrompiamo Fatemi vedere un attimo Che ho un dubbio No vabbè Qui sono i video Ecco Ieri era uscito Questo episodio Il 19 Episodio Diciamo Tra virgolette Episodio E volevo farvi Un attimo una cosa Ecco la gens Aspettate Prima voglio vedere Se è il case C'è il quad track Sì c'è ancora Quad track Quindi quest'anno Avremo Quelli snodati Il quad track Il T9 E il Challenger De cavoli è il challenger Il challenge Lo troviamo Vabbè C'è il challenger Comunque Poi grimme Ho visto che c'è una raccogli Questa qui E raccogli patate No Non so se ci sono tutte e due La La Tektron E l'altra Che non mi ricordo Più cosa sono Comunque la raccogli patate E l'altra Comunque so che c'è La holmer Vediamo un po' Se c'è qua Con la Holmer Eccola qua Dovrebbero aver messo Già Cavoli Ce la fai Ok La holmer Hanno appunto messo Questa qui Che in pratica È per le barbabie Penso che va Di dei 270 300 Penso Qui appunto Non c'è più Il case Quello 160 No Il 160 O il 200 Boh Il Puma Intendo C'è soltanto Questo qua Il CVX Però è più potente Di quello che dicevo E nulla Ecco oggi Volevo far vedere Oggi Andiamo sui video Uscirà un video Ovvero Eccolo qua L'avrete già visto L'episodio 45 Che uscirà Alle 13 No scusate Alle 15 Mentre Giant Machine L'ho impostato Per oggi Però Boh Devo vedere Devo vedere Perché non so Se farvelo vedere Oggi Oppure più avanti Magari l'avete già visto Comunque vedrò un po' io Perché domani Vorrei portarvelo domani Ma per domani Mi sono imposto Io di portarvi Un episodio Della serie Made in Italy E Ride 2 Dato che è un po' di tempo Per registrare Riesco a portarveli E nulla Comunque Sono veramente molto curioso Di vedere il gioco Perché ormai manca poco Manca veramente pochissimo Come ho già detto L'ho già ordinato E Appunto All'uscita Oltre a questo Che alla fine Vabbè È cambiato Però secondo me Lo scalino Più grande C'è Vabbè A parte all'inizio Che non ci ho mai giocato Però Ciao a tutti Tutoretti e benvenuti In questo nuovissimo video Oggi sono qui per farvi vedere Questo video che è uscito Oggi stesso Riguardante le news Di Farm Simulator 2017 In pratica Vi presenta Principalmente i mezzi Allora Abbassiamo l'audio Ok Direi di partire Va via il mouse Vabbè Come vedete C'è il Case Optum 300 Che Me l'avete già fatto notare In un video Che si intravedeva Con l'Enchem Qui vabbè Abbiamo il New Holland Quello per fertilizzare Voglio dire che Ecco Mi avete detto Se c'era il Pantera No Ci sarà questo E basta Penso Qui la Massi Ferguson Che penso Che sarà una delle trebbie Non dico più bella Però È molto bella Come trebbia Fend 939 Qui non dice più serie 900 Perché questo qui È proprio 939 Ok Valtra Il serie T Mi pare Con il Lely Poi ci si intravedono Ecco Qui un nuovo mezzo Olmer Terra Felis Due Eco Veramente un Un bestione In pratica Avevamo visto La La ropa C'era come mod Nel 13 E alla fine Hanno fatto qualcosa di buono Qui va bella crone Intanto L'abbiamo già visti Il Deus 9340 TTV Guardate qua Con la botte Venus 3 assi Devo dire che è una bella Non so se della grime Metteremo solo raccogli patate Comunque dalla Olmer Appunto abbiamo visto Quel fantastico mezzo E cavoli Non ho fatto partire il timer Ok Vabbè Non serve nulla ora E qui dovrebbe essere ancora aggiornato Appunto Ero sulla Jens Come vedete E abbiamo questa qui Intanto io mi sono informato Un attimo Cavoli Non funziona Ok Sono andato sul loro sito E ho visto un paio di mezzi Della Jens Allora Vabbè queste cippatrici Ecco qua Questa cosa qui non sarebbe male Penso che io metteranno Io credo che metteranno Non questa qua piccola Bensì Perché piccola ce n'è già un'altra Bensì una cosa da camion O questa qua Che sarebbe una figata assurda Oppure no Oppure magari questa Allora Una è questa qua Due Tre o quattro assi Non so Vedranno poi No questo qui non credo Oppure No neanche questa De cavoli Eccola qua Questa qua Quella sul camion Che anche questa non è affatto male Ho orrato qua Ma non dice nulla di preciso Ecco Io penso Uno di questi qua Uno di questi che mettono È una mia ipotesi Poi magari potrebbero mettere anche questo Come non so Però era soltanto un'ipotesi che mi ero fatto Vai qui il video Che altro volevo dirvi Vabbè ci sarebbe il caseoptun 300